Top play Potremmo giocare Blitzcrank Benvenuto King Bella che di too much BAM Ragazzi 13 mesi Kingone Ok bro Oh ce lo lasciamo qua di sempre il support We are respected Comunque Kai'Sa non la gioca più nessuno Hai da un sacco a gol la vedo Ok 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 Lilia Ok Lilia è molto forte Calista Megusta Finalmente Nupic ci piace Lilia Lilia Magari vanno Natus loro adesso Natus MF Vado di Brown Senna Serafin Aggressivi Aggressivi Brand Mmm Era meglio Frontend secondo me Qua Jarvan Jarvan Cosa ne pensi di questo pick Blitz OTP E qua ragazzi andavo Odinaudio su di Blitz Hop Axel Se lo sapessi giocare RL Era un'opzione un po' più debole No Blitz Secondo me è il più forte qui Lo so Sto spammando Blitz Ma gli abbiati stanno spammando Enchant Cog Gian 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 Serafin Senna Cog Cog Jinn MF Jinx Varus Twitch Orn E' il tuo migliore E' il migliore Nooo E' una merda Ma poi ti spingi via la ulti Va bene E' che so se Gnite Gnite Ragione di nuovo Io alle 6 dovevo allenarmi Ma da quanto siamo ancora? Daaaaa 20 minuti Mo' mi rimette la top lane E su quali muri si attacca la pastilla della Oi? Su quali muri si attacca la pastilla della Oi? Ah perchè ora hanno levato un po' di muri dalla top lane Ehm 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 Può essere un nerf per lei Vi prego fatemi giocare Niente Bella Dragostino Tutto bene? Tu come stai? Ok Stiamo avendo un po' di difficoltà In entrare nella partita qua Il nostro blitzkank si fa rispettare C'è l'unipo Per cui Ehm Ma 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 Bella Ivan Con i 7 metri Il king Avete visto ragazzi che un bambino ha battuto Tetris Ogni tanto mi capivano questi video incredibili Questo qui è il bambino Che sta per fare il record Cioè questo qua gioca a questa velocità E' incredibile E poi in pratica se vai troppo avanti nel gioco Si si Glicciano I colori vedete Gli sai quanto c'aveva di battiti Oh mamma Non si capisce un cazzo Sono mid lane Finiamo con bello Yasuo in bellezza Vabbè insomma c'è un punto dove il gioco non pensa che tu possa raggiungere E' il game crash Eccolo qua E' incredibile Il gioco frizz La prossima patch lo risolvo Cioè puoi virtualmente battere Tetris Mark Wolf prefer mid I can top Mi hanno rubato la mia karma top lane Facciamo Cosa facciamo Eeeh Top lane Ma il fight razzi non è mica detto Riven No Riven no Sarebbe bello fare Nasus Non lo so Trandol Potremmo giocare Però non so quando dovrei traddare Perché è uno di quei campioni particolari dove Chi è il loro top lane Karma O Velcoz Karma top lane Magari dodge E' questo la giochiamo Incredibile Allora ragazzi nove anni fa Nasus lo giocavo Ci ho vinto la promo a gol con Nasus Giochiamo Doran Shield Non credo proprio che Karma ci ammazzera mai Dobbiamo solamente farmare Stiamo a posto Ci campera top lane Può essere Sono dal lato della mappa dove è difficile camperarci Cosa si builda qua Che item da tank posso buildare questo Game Questo Questo No Le persone normali buildano Ok ok Ah lo giocavo a P E' ormai troppo tardi I sage frozen possiamo fare Si Ma livello 1 ci uccide? Non ci ucciderà mai livello 1 No I walk through the ages I walk through the ages I walk through the ages ragazzi non va bene, va benissimo e sul tutorial potremmo perdere qualcuno non mi prendi a greco usare la usare la ma manco i puniti ma poi lui è scarsissimo non mi sa giocare è super come me mamma mia non mi puoi incibare niente ci facciamo magic resistance qui a ricaricabili come back il biscottino forte qua ma devo tippare devo tippare no, vado mid lane senza nemmeno tippare sono top se lo usano acqua qua mi sarebbero più danni di quanto mi puro mamma mia è sicuramente main support no, vado mamma mia è scarsissima ma lo vinco sto game? cioè io sarò utile eh ma questo non va a farlo che tristetto chi sta se l'ammazzo leggermente pericoloso è sicuramente c'è anche anche in deadbox c'è il tp non mi cambia letteralmente nulla ok ora non muoio più da quella la questa la push allora vi do un consiglio quando formate su nasus vi conviene ammazzare prima i ranged e poi il carretto adesso visto che non voglio rischiare mi terrò di star per il carretto ok non cambia letteralmente niente poi se il team vince ragazzi siamo a botti di ferro veramente io sarò utile uno vio lo ammazzo non voglio flippare faccio tanto quella è tutta andata aspettiamo questo ci abbiamo pochi minion è vero però siamo dischetti con le stack botta stravinto guarda in fisca non dova nemmeno vince non dova nemmeno vince Questa forza è l'unica maniera che ho per partire il game Far fidare Kindred Devo essere più passivo sui CS Però Kat 56 sono davvero pochi Muore L'ho ucciso? Ma quei pisciolini me li posso farmare? Mi senti sì, sai Questa è l'unica maniera che ho di partire il game È il dodge A bretta è ben aspetta Questa è l'unica maniera che ho di partire il game Abemus Spirit Visage Il team sta vincendo Noi siamo nell'iper chilling Ok adesso quella non ci dovrebbe mai più ammazzare E ora vi faccio il frozen giusto ragazzi Per la loggeeks ragazzi Per i 25 mesi King Boots coltano ed action Sì, ho un'idea Non ci dovrebbe mai è l'unica maniera che si trattava E' un'idea 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 Il team Un'idea 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 Ehm, mo ci corriamo ragazzi Non dobbiamo flippare niente Ehm, grandi ragazzi E' veramente divertente giocare top lane Ehm, oh yeah Ma questo ci fa fare stack Anche le watch vanno fare stack Pushiamo la prossima Che colliamo Facciamo cold air d'action Poi frozen Giusto? Trinity Force Vai facciamo la Trinity Force Avrei il TP Ma è open mid? Bella giocata per lo video Grazie mille Ma è finita la partita? Poi ho l'assist Ma stanno difendendo Ma stanno difendendo Non ho capito E allora non giochiamo più Questa è la brand Z con la wave E io che faccio Ma è il nostro Poi Ma è molto E io Esolo Grazie a tutti Siamo veramente grossi Ora come andiamo forti? Non ce la faccio Meno male Sì Ma sono abbastanza grosso Io non sono morto Io non riesco a andare via C'è il DPS? No E ci chiamo bot? Un'attività che richiede del tempo Un po' come cucire È la fine da un cobre Ma la faccio È la fine da un cobre 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 Possiamo perdere? Kinderfiddate è grave ragazzi Abbiamo il TP Io scolo benissimo Però non è facile Girare contro il loro Nautilus me lo buco Anche Velcro Se viene a grange con il buco Però non dovrebbero mai Entrare a grange questi qua Avrei anche il TP Lo potrei fare Non voglio pagare il game È la fine da un cobre Quella è la sua hull Quella è la sua hull Mi ha tirato una culo Ho bugato Muore C'è la chance È la chance mmm 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 I 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 Mi Devo sbrigare Il mio team ha bisogno di me Devo pushare altrimenti qua non vinciamo ragazzi ok Let's go Meno male, meno male che ho pushato bot Naso su 1v9 boys Let's Let's go boys, lo faccio per voi eh Mica per me, lo faccio per voi Lo faccio cazzo per voi Lo faccio per voi Lo faccio per voi Cazzo Mica cazzo ragazzi Eh? Oh Eh? Fatto più danni di Nautilus Eh? Eh? La mia prova a gold così l'ho vinta Sta facendo 021 con Nasus Toplin Ancora mi ricordo A 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